Cari colleghi, ho un piccolo annuncio da fare, qui sotto in parte al tasto iscriviti troverete anche un tastino abbonati che cos'è quel tastino? Praticamente ho voluto dare la possibilità a chi mi segue da tanto e magari è molto affezionato a me o chi supporta molto il piccolo lavoro da youtube che faccio, dove mostro tutto quello che faccio, tutte le tecniche che adotto, le prove di tutto quello che mi passa per la testa, ho voluto dare la possibilità di un po' finanziare tutto questo progettino che sto portando avanti da ormai, questo dovrebbe essere il terzo anno se non mi sbaglio è molto impegnativo portare avanti tutte queste cose perché star lì devo filmare, dopo montare, tra le altre cose che faccio eccetera allora cosa consiste? Praticamente ho voluto su youtube c'è la possibilità appunto di creare questi livelli di abbonamento ai canali e in cambio se uno si abbona ha un qualcosa in cambio con questi canali io non ce la faccio sinceramente a dare più di questa, a creare ulteriori contenuti o fare qualcosa in più perché a livello di tempo proprio per me è impossibile già fare questo, è molto impegnativo perciò cosa ho voluto fare? in cambio di un euro al mese, in realtà 99 centesimi al mese perciò 12, neanche 12 euro l'anno di supportare il mio canale se uno, se voi cliccate il tasto abbonati, inserite tutti i vostri dati automaticamente ogni mese youtube scalerà dal vostro conto, dalla vostra carta 99 centesimi che saranno destinati a me e a supportare tutto questo che vedete ho scelto la cifra più bassa che potevo, più in basso di così non potevo anche perché mi rendo conto che non posso dare qualcosa di ulteriore se non la risposta prioritaria ai commenti degli abbonati questo è l'unica cosa che posso fare in più a già questo che faccio perciò per chi si abbonerà al canale in cambio di 99 centesimi al mese una cifra davvero ma davvero irrisoria proprio ho voluto fare quella più base 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 perché comunque non voglio chissà chi mi accontento di davvero pochissimo per me sarebbe già 99 centesimi comunque per me sono già secondo me molti e comunque è una cifra in sé davvero irrisoria risponderò prima ai commenti degli abbonati appunto questo abbonamento è tutto dentro youtube non è una piattaforma esterna ma siccome sono nato su youtube sono cresciuto su youtube ho detto uso qualcosa che fa sempre parte di youtube perciò molto sicuro perché youtube è una piattaforma davvero sicura è fatta davvero davvero molto bene benissimo sono davvero soddisfatto di tutto quello che fa youtube e perciò è tutto sicuro e trasparente potete fidarvi a inserire tutti i vostri dati che io non gestisco niente io riceverò solo una parte di questi 99 centesimi perché non sono neanche tutti youtube logicamente si tiene una piccola percentuale piccola mi ha dato perché il 30% dei 99 centesimi se li pappa a youtube per non fare niente però un altro nemmi ha dato la possibilità di perciò è così è così e basta perciò ecco questo è l'invito il piccolo invito che vi chiedo se voi volete supportare volete diventare i miei sostenitori aiutare tutta questa cosa che sto facendo vedere il progresso le nuove cose eccetera i piccoli insegnamenti che vi posso dare i miei consigli personali le prove che faccio in campo eccetera questo è quello che gentilmente vi chiedo un euro al mese 99 centesimi al mese neanche 12 euro l'anno per sostenere tutto questo e logicamente più più sostenitori avrò più aumenterò il tutto il mio parco api tutte le nuove cose sarò molto più incentivato e vedete molti più contenuti e quant'altro perciò ecco niente 99 centesimi sono molto pochi sono davvero pochissimi penso che tutti ce li possiamo permettere dopo non sono qua a fare la carità a nessuno non sono qui a chiedere soldi a nessuno tecnicamente sì tecnicamente sì però ecco spero di aver fatto secondo me è una cosa che mi può aiutare mi può aiutare e anche per voi può aiutare voi perciò oggi giornata davvero tosto uscirà un video perché ho fatto un po di cose con la piazza di fecondazione lo smantellato dopo ho fatto su due nuclei ci sono quattro regione un casino e basta ecco perciò se volete darmi una mano ragazzi abbonatevi al canale 99 centesimi non chiedo nient'altro vi scaleranno automaticamente tutti i mesi 99 centesimi dal vostro conto carta che inserirete in fase di in fase di sottoscrizione di questo abbonamento penso sia l'abbonamento più economico che possa esistere e basta iscriviti e abbonati al canale per 99 centesimi al mese ciao ciao